Il consigliere regionale del Partito Democratico, già assessore Silvio Paolucci, dopo gli attacchi subiti sui conti della sanità abruzzese, chiede senza mezzi termini che gli esponenti del Movimento 5 Stelle del centro-destra trovino il coraggio di chiedergli scusa, enunciando le motivazioni al nostro microfono. Ma perché per cinque anni hanno più e più volte dichiarato che i conti della sanità e dunque il bilancio del sistema sanitario regionale abruzzese fosse vicino al default, ovvero dichiaravano essere presenti diversi milioni di euro di debiti, una volta 40, poi 60, 80, 100, fino a 200 milioni di euro nelle ultime dichiarazioni e nulla di tutto ciò si è poi verificato a parole non soltanto mie, ma anche del nuovo assessore regionale alla sanità Veri della Lega, che nell'ultimo tavolo di monitoraggio ha confermato che i conti sono in equilibrio anche per l'ultimo anno del piano di riqualificazione, cioè il 2018. Siamo cioè dentro i parametri previsti dal Consiglio dei Ministri, sia per quanto riguarda il 2016, 17 e anche del 2018. Ecco perché, a mio avviso, oggi è venuto il momento di trovare il coraggio di chiedere scusa per queste mistificazioni continue sulla base delle quali hanno costruito una sorta di dissenso nei nostri riguardi e anche un consenso per quanto li riguardava. E all'assessore di Forza Italia Mauro Febo, che ha parlato di macelleria sociale del quinquennio di Polucci. Mi sembra come quell'infante che nel momento in cui gioca a pallone si riprende la palla e dice adesso non giochiamo più, perché in realtà ha parlato per anni e anni di conti, la macelleria sociale non c'entra coi conti, e quanto la macelleria sociale, il suo governo, quello della destra dei 5 Stelle, quello dove è preponderante sia a livello regionale che a livello nazionale la presenza della Lega, ha dichiarato che anche sui livelli essenziali di assistenza la Regione Abruzzo ha fatto enormi passi in avanti. Ciò non vuol dire che tutti i problemi della sanità abruzzese sono risolti, ma che sicuramente rispetto all'anno 2014, soprattutto per esempio sul profilo della prevenzione, siano stati fatti dei passi in avanti significativi. Insomma è una risposta che non è una risposta. Io suggerirei anche al collega e Assessore Febbo di lasciar fare il lavoro di Assessore della Sanità al suo collega, alla sua collega in particolar modo.